Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, Divina Volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regine Immacolata, Celeste, Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti che sospiri più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dei figli tuoi, perciò, sovrana regina, a te mi affido finché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna a guidare tutto l'essere mio finché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Sì benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Se ha gloria dei nostri cuori interna. Donaci tre panni della vita, negli fritto eterno immenso, tu volere insegnaci il tuo perdono. Per essere perdono ai fratelli Donaci tre panni della vita Nell'infinito etamo immenso Tuo volere insegnaci il tuo amore Per liberarci da voler umano Padre, tu che sei l'amore Tu che sei il perdono Tu che sei la gioia Padre, tu che sei mio padre Tu che sei la vita vera Padre, tu sei la mia volont Al libro di cielo, volume 23 17 settembre 1927 Le pene sono come il ferro battuto dal martello che getta faville Differenza tra la croce dell'umanità di nostro Signore e quella della divina volontà E come essa tiene il suo atto incessante Mio Gesù, vita del povero mio cuore, vieni a sostenere la mia debolezza Sono piccola bambina, ancora E sento il bisogno estremo che mi tieni nelle tue braccia Che mi imbocchi le parole Che mi dai i tuoi pensieri, la tua luce, il tuo amore Ed il tuo stesso volere E se ciò non fai Io me ne starò come bambina picciosa Senza far nulla E se tu ami tanto di far conoscere il tuo santissimo volere Il primo al sacrificio sarai tu Io entrerò in ordine secondario Perciò, amore mio, trasformami in te Toglimi il tuo cuore che sento Che non ne posso più Ed io seguirò a compiere il tuo eterno volere Anche a costo della mia vita Onde seguendo il mio abbandono nella divina volontà Mi sentivo sotto l'incubo delle pene Ed il mio amato Gesù, stringendomi a sé Per darmi la forza, mi ha detto Figlia mia, le pene sono come il ferro battuto dal martello Che lo fa sfavillare di luce ed infuocare tanto Da trasmutarsi in fuoco E sotto i colpi che riceve Il ferro perde la durezza Si ramorbidisce In modo che si può dare la forma che si vuole Tale è l'anima sotto i colpi del dolore Perde la durezza, sfavilla luce Si trasforma nel mio amore e diventa fuoco Ed io, artefice divino Trovandola morbida Le do la forma che voglio Oh, come mi diletto a farla bella Sono artefice geloso E voglio il vanto che nessuno può e sa fare Le mie statue I miei vasi Tanto nella forma Quanto nella bellezza E molto più nella finezza E nella luce che sfavilla Le converto tutte in verità Sicché ogni colpo che le do Le prepara una verità da manifestare Perché ogni colpo è una favilla Che l'anima mette fuori di sé Ed io non perdo Come le verde il fabbro nel battere il ferro Ma me ne servo come investire Quelle faville di luce Di verità sorprendente In modo che all'anima Servono come il più bel abbigliamento E le somministrano il nutrimento Della vita divina Dopo di ciò seguivo il mio dolce Gesù Ma era tanto afflitto e sofferente Che faceva pietà Ed io Dimmi amore mio che hai Perché soffri tanto? E Gesù ha soggiunto Figlia mia Soffro per il gran dolore Della mia volontà La mia umanità soffrì Ebbe la sua croce Ma la sua vita fu breve sulla terra Invece la mia volontà È lunga la sua vita In mezzo alle creature Sono già 6.000 anni E durerà ancora E sai tu chi è la croce Continuata di essa? L'umana volontà Ogni suo atto Opposto alla sua Ed ogni atto della mia Che l'umana volontà Non riceve È una croce Che forma il mio eterno volere Quindi le croci di esso Sono innumerevoli Se tu guardi Tutta la creazione La troverai Piena di croci Formate dall'umano volere Guarda il sole Il mio divino volere Porta la sua luce Alle creature E loro Prendono la sua luce E non riconoscono Chi porta loro questa luce Ed il mio volere Riceve nel sole Tante croci Per quanti non lo riconoscono E mentre se la godono Se ne servono Della stessa luce Per offendere Quel volere divino Che le illumina O come è duro e doloroso Fare del bene E non essere riconosciuto Il vento È pieno di croci Ogni sua ondata È un bene Che porta alle creature Ed esse si prendono E godono quel bene Ma non riconoscono Chi è colui Che nel vento le carezza Le rinfresca Purifica loro l'aria E perciò Il mio volere Si sente infliggere Chi odi Di ingratitudine E croci Ad ogni vento Che espira L'acqua Il mare E la terra Sono piene di croci Formate Dall'umano volere Chi non se ne serve Dell'acqua Del mare E della terra Tutti Eppure il mio volere Che conserva tutto Ed è vita primaria Di tutte le cose create Non è riconosciuto E sta solo in esse Per ricevere croci Dall'ingratitudine umana Perciò Le croci del mio volere Sono senza numero Più numerose E dolorose Di quelle Della mia umanità Molto più che a questa Non mancano Delle anime buone Che hanno compreso Il suo dolore I suoi strazi Le pene che mi fecero Soffrire Ed anche la morte E quindi Mi compatiscono E riparano Ciò che io soffri Nella mia vita mortale Ma le pene Del mio fiat divino Sono croci Che non si conoscono E quindi Senza compatimento E senza riparazione E perciò È tanto il dolore Che sente il mio volere divino In tutta la creazione Che fa scoppiare Ora la terra Ora il mare Ora il vento In dolore E nel suo dolore Scarica flageli Di distruzione È l'estremo Dolore di essa Che non potendone più Colpisce Coloro Che non la riconoscono Ecco perciò Perché dichiamo Spesso spesso A girare In tutta la creazione Per farti conoscere Ciò che il mio volere Fa in essa Il dolore E le croci Che riceve Dalle creature Affinché tu lo riconosca In ciascuna cosa creata L'ami L'adori Lo ringrazi E sia la sua prima Riparatrice E consolatrice Di un volere così santo Perché solo Chi vive in esso Può penetrare Nei suoi atti E riconoscere I suoi dolori Con la sua stessa potenza Farsi difenditrice Farsi difenditrice E consolatrice Della mia volontà Che da tanti secoli Vive isolata E crocifissa In mezzo All'umana famiglia Ora Mentre ciò diceva Il mio Gesù Io guardavo la creazione E la vedevo Tutta piena di croci Che non si potevano contare Tanto erano assai E il divino volere Come metteva fuori I suoi atti Per darli alle creature Così l'umano volere Metteva fuori la sua croce Per crocifiggere Quegli atti divini Che dolore Che pena Ed il mio amato Gesù Ha soggiunto Figlia mia Il mio eterno Fiat Ebbe un atto incessante Da che creò Tutta la creazione Verso le creature Ma questi suoi atti Poiché mancava in loro La mia volontà regnante Non furono ricevuti Da esse E perciò Restarono sospesi In tutta la creazione Nel mio stesso volere Divino Ora nel venire io Sulla terra Il mio primo interesse Fu di riprendere in me L'atto incessante Di esso Restato sospeso In se stesso Perché nella creatura Non aveva potuto Prendere il suo posto E la mia umanità Unita al verbo Prima doveva dare posto A questo suo atto incessante Darne la soddisfazione E questa Fu la mia passione Sconosciuta E più lunga e dolorosa Solo poi Mi occupai Della redenzione Il primo atto Nella creatura E la volontà Tutti gli altri atti Siano cattivi O buoni Entrano Nell'ordine secondario E perciò Io dovetti avere interesse Di mettere In me in salvo Tutti gli atti Della mia divina volontà Scendere nel basso Degli atti umani Per riunire L'umana E la divina Insieme Affinché Vedendoli messi in salvo Gli atti suoi Potessi Rappacificarla Con le creature Ora oggi Invito te A riprendere In te Questi atti Respinti dalle creature Perché il mio volere Continua il suo atto incessante E resta col dolore Di vederlo Sospeso in se stesso Perché non trova Chi riceve I suoi atti Né chi li vuole Né chi li conosce Perciò Sia attenta A lavorare E patire insieme Con me Per il trionfo Del regno Della mia divina Volontà Bene Comincio oggi Il volume Ventitresimo Del libro di Cero Andiamo avanti In questo Viaggio In questo lungo Viaggio Ecco Scoperte Alla meditazione Uno per uno Di questi scritti Chissà se il Signore Vorrà Che sia portato A compimento Fino alla fine Quanti Resisteranno Anche nel Nel compimento Di questo Lungo Ma splendido Cammino Ecco Oggi abbiamo I tre punti Distinti Di questo scritto Che formeranno Poi altrettanti Punti Di meditazione Il primo C'è una lezione Di Gesù Sul valore Della croce E quindi Delle pene Noi dobbiamo ringraziare Il Signore Dei colpi Che ci dona Delle prove Delle prove a cui Ci sottopone Delle sofferenze E delle tripolazioni E' chiaro Che la nostra natura Geme Smania Soffre Vorrebbe Liberarsi Ne farebbe Volentieri A meno E' comprensibile Questo Non solo che è comprensibile Ma corrisponde Anche in un certo senso All'essere profondo Della nostra natura Perché la nostra natura Viene da Dio E in Dio In Lui Non esiste nemmeno La sofferenza Qui Gesù Oggi ce ne parla Un pochino Misteriosamente Della Della sofferenza Della sua divina volontà Ma è una sofferenza Come dire Di sponda Di rimando Non è in Dio E' fuori di Lui Ecco Quindi Questa nostra Refrattarietà Congenita La sofferenza Dice La nostra origine divina E dice anche Il nostro fine ultimo Perché noi tendiamo Verso il paradiso Dove Come si legge In una saga scrittura La morte sarà distrutta Non ci sarà Nel lutto Né dolore Né lacrime Perché le cose di prima Sono passate Qui però In questa terra Le pene E il dolore Sono necessarie Perché in questa terra Purtroppo Col peccato Ho cominciato A regnare L'umano La volontà E' l'unico modo Di liberarsi Da tutti quanti Gli orrori Che essa produce Dalle incrostazioni Che ci lascia E da tutto il resto E' la sferza Del dolore Usa questa bellissima immagine Il ferro battuto Dal martello Le scintille Che tira fuori E quindi L'arroventamento La purificazione Che quel ferro riceve Ecco quindi Nostro signore Per questo che Ci manda le croci Ci manda le prove Adesso Non stiamo troppo A distinguere Ce la vuole mandare O ne permette Tanto Sia che ce la voglia Mandare Sia che le permette Sempre riconducibile Alla sua volontà Sono E sempre Da soffrire Da parte nostra Sono lo stesso Ecco quindi Non dobbiamo Lamentarci Delle croci Nella sacra scrittura Si vedono tantissime Esortazioni In questo senso E' per la vostra Correzione Che voi soffrite Dice La lettera Agli ebrei Dio vi tratta Come un padre Qual è il padre Che non corregge Il figlio Dice certo Ogni In correzione Sul momento Nessuno si diverte Di essere Incorretto Rimproperato Castigato Ripreso Non è divertente Ma produce Buoni frutti Le persone che ci amano Attenzione Chi ci ama veramente Certamente lo fa Con estrema dolcezza Lo fa Con estrema amore Lo fa A tempo opportuno A modo opportuno A luogo opportuno Ma Ci dice la verità Ci rimprovera A volte Ci fa soffrire Gesù nel libro Dell'Apocalisse Dice queste Testuali parole Io tutti quelli Che amo Li rimprovero E li castigo Testuali parole Perché dice Che non esistono I castighi Libro Dell'Apocalisse Ripeto Io tutti quelli Che amo Li rimprovero E li castigo Quando Dio Non voglia Non ci fossero Più rimproveri Più castighi I maestri di spirito Dicono una cosa Allarmante Che è questa Quando Dio Dio non voglia Dovesse cessare Di rimproverarti O di castigarti Vuol dire che Non si sta prendendo Più cura di te Quello è il vero Abbandono di Dio La gente pensa Che è stato Abbandonato da Dio Quando ci sono Talmente tante prove Che dice Dio mi ha abbandonato Guarda in che mare di guai Mi trovo Dio ti ha abbandonato Quando le prove Non ci stanno più Se proprio uno Volesse ammettere La possibilità Mi avviso Molto molto remota Che Dio possa abbandonare Anche se non possiamo Sapere Conoscere perfettamente I disegni dell'altissimo Cioè Se tu Non sei più rimproverato Non sei più castigato Non sei più corretto Non stai più sotto la sferza Sotto i colpi Non escono più le scintille Eh Alcuni autori Adesso non ho Né chiaro Il contenuto E nemmeno Ricordo bene La fonte No? Quindi Mi astengo Da citarlo Però Su questo argomento Hanno detto Delle cose Molto forti Molto serie Quindi Nessuno pensi mai Che nella divina volontà Scompaia Tutto questo Non c'è niente Di tutto questo Negli scritti Ricordiamo sempre Quel passaggio Della Bocalisse Capitolo terzo Versetto diciannove Io Tutti quelli che amo Li rimprovero E li castigo Quindi Non ci capiti mai Di bestemmiare Bestemmiare Non Nel senso di dire Le bestemmie triviali Ma Di Prendersela con il Signore Perché ci fa soffrire Perché quella di fatto È una bestemmia Anche se involontaria Inconsapevole Né tantomeno Di pensare Che Dio non ci ama Perché ci manda le croci Anzi Perché Proprio perché ci ama Che ci manda le croci In questo mondo Ripeto Se non ci fosse il peccato E se quelle cose Non fossero necessarie Dio non ce le manderebbe Mai Perché non si diverte A vederci soffrire Ma essendo necessarie Arrivano Ora In questo contesto Quindi di croce Gesù Apro una parentesi Questa è la seconda parte Una parentesi Neanche troppa parentesi Un capitolo Meglio Sulla sofferenza Sul gran dolore Della mia volontà Sono quelle classiche Espressioni Che dinanzi alle quali Noi poveri mortali Anche in base Alle cose che sappiamo Io in particolare Dalla teologia Dice Ma Dio è impassibile Dio non soffre Dio è felice Cose che sono comunque Tutte quante vere Non è che non sono vere Sembrano essere Contraddette Da queste affermazioni Gran dolore Della mia volontà E' chiaro che certamente Si tratta di espressioni Che vanno Decodificate Vanno sapientemente Interpretate Il concetto Che Gesù comunque Comunica E' un concetto Evidentissimo Cioè che Ogni atto Di volontà umana Immaginiamo quanti Cioè qui si parla proprio Le potenze Diciamo più Potenze in campo matematica Dieci elevato Alla qualche Trilionesima di volte Insomma No Quindi Non ci sta la possibilità Di contare Tutti i cantigliati Di volontà umana Sono impressionanti Sono Anche perché Gli uomini Fanno quasi solo Quelli Quindi Anche i buoni Fanno quasi solo Quelli Perché Quando un buono Fa un atto Di virtù Nella volontà umana Certamente Quello non fa soffrire Il Signore Però Ecco Torniamo Agli altri La mia volontà Sono 6.000 anni Che ha fatto uscire La creazione E dice Durerà ancora Quindi Attenzione che Non siamo prossimi Alla fine del mondo Come ogni tanto Qualche Qualche sirena Va sventolando In giro Perché Stante a Le informazioni Che Gesù Dà Io Sono perfettamente Consapevole Che non sono In sintonia Con quello Che dice Una parte Del pensiero Che si definisce Scientifico Io voglio Sperare Che lo sia Non ne sono Tanto sicuro Ecco Perché Certamente Avrebbe da discutere Su questa Datazione No Però Secondo la cronologia Biblica E Ratificata Da questi Iscritti Se uno Vuole Azzardare Un'ipotesi Proprio Come dire Un'ipotesi Azzardata Ci mancano Minimo 2000 anni Alla fine Del mondo Se Dio Fa le cose In maniera Così Come dire Puntuale Intelligente Perché Creazione Diluvio Redenzione Adesso siamo Esattamente A due terzi Quindi Passaggio Dal regno Della redenzione Al regno Della volontà E poi Tra altri 2000 anni La parusia Dopo il secondo Combattimento Scatologico Se uno Proprio Volesse Azzardare Nessuno Tenga caso Di queste cose Che le sto Dicendo Veramente Tanto per Fare Una piccola Meditazione Ma non si stia A dare Troppo peso Né a dare Troppo retta A queste cose Che sono Del tutto Opinabili Insomma Andiamo invece Alla sostanza Delle cose Più importanti Cioè Questo Processo Che l'umana Volontà Innesca Cioè Gode Ininterrottamente Di tutti quanti Gli atti Della volontà Divina Sparsi Nella creazione Questo Gesù Ce l'ha spiegato Finite volte Insomma Quindi Per chi Conosce un pochino Questi scritti Per chi ha sentito Qualche meditazione Non c'è bisogno Di approfondirlo Troppo Il sole che mi scalda È un atto Della divina volontà L'acqua che io bevo È un atto Della divina volontà Le cose che io mangio Sono un atto Della divina volontà Noi siamo circondati Siamo Quasi tutti quanti Gli esseri umani Si prendono Tutte quante queste cose E non mi riconoscono Non mi riconoscono Godono Se la godono Per esempio la luce Anzi Non soltanto Non mi ringraziano Ma è grazie alla luce Che possono fare Un sacco di peccati Perché Se il mondo fosse Completamente al buio Si possono fare pure peccati Di pensiero O solitari Però certamente Il numero dei peccati Diminuirebbe Non indifferente Se devi ammazzare Una persona Se non la vedi Come fa ammazzare Quindi Se non ci fosse la luce Non potrebbe Commettere Un omicidio No Ecco O non potrebbe fare Che ne so Un peccato Impuro con gli occhi Perché se stai al buio Non ci vedi E quindi Non ha possibilità Di fare peccati Con gli occhi No Questo è il senso Di quello che dice Gesù E così per gli altri Elementi creati Cita il vento Cita il mare L'acqua No Questo perché Perché il mio volere Che conserva tutto Ed è vita primaria Di tutte le cose Non è riconosciuto Ecco E sta solenesse Per ricevere croci Dall'ingratitudine umana Ingratitudine È un termine Che ricorre diverse volte In questo In questo scritto Ingratitudine Termine molto Molto Adatto Molto consono Tra l'altro Al momento In cui cade Questa meditazione Oggi è il 14 di giugno Abbiamo da poco Celebrato la festa Del Sacro Cuore E siamo nel mese Del Sacro Cuore No Tutta la spiritualità Riparatrice Del Sacro Cuore Di cui qui Gesù tra l'altro Adesso fa riferimento Si fonda proprio Su questo Solo che Attenzione Gesù a un certo punto Dice Le croci del mio volere Sono senza numero Più dolorose Della mia umanità Alla mia umanità Cosa è successo Che alcune anime buone Hanno compreso Il suo dolore I suoi strazzi E le sue pene E perciò Mi compatirono E ripararono Ciò che io soffri Nella vita mortale Ecco la spiritualità Del Sacro Cuore Del Sacro Cuore No Cioè Le sofferenze Di Gesù I dolori Di Gesù I doni Di Gesù Cioè Quindi Della Della sua persona Quindi Le eucaristie Tutte tante queste cose Gli uomini reagiscono Con ingratitudine Indifferenze Gesù chiede a Santa Margheria Sa Santa Margherita Almeno tu Amami per tutti Riparami per tutti Eccetera Quindi sono I dolori Della sua umanità Ma Dice I dolori Della mia volontà Ne ripara quasi nessuno Dice Gesù Perché non ci pensano Perché non pensano Gli uomini Certo Quando mi vedono sofferente Sotto la sferza Della flagellazione O della coronazione O delle coronazioni Di spine Insomma Tutti pensano Gesù qui ha sofferto Facciamo un atto Di riparazione Le poche anime Che hanno queste sante idee Dice Ma sulla mia divina volontà Ma che mi vieno a riparare Dice Sono croci che non si conoscono E quindi Senza compatimento E senza riparazione E a chi chiede di riparare A Luisa E a tutti noi Perché adesso noi Le sappiamo queste cose Molto più importante Di quanto pensiamo Ricordare Almeno in certi momenti Ci sono Alcuni momenti In cui mi avviso È facile È abbastanza facile Quando uno si sveglia La mattina E comincia la giornata Che vede il sole Quando beviamo Quando mangiamo Quando ci mettiamo A tavola Prima di andare a dormire Bisogna cercare Di fare in modo Perché non lasciare Queste cose al caso Di abituarsi Diciamo così Ad alcuni momenti Oltre agli atti Che si fanno comunemente L'atto preventivo In cui Almeno in qualche circostanza Noi risvegliamo Questa coscienza Che stiamo ricevendo Gli atti Della divina volontà Quindi la ringraziamo La ricambiamo E ripariamo Quindi offriamo Il nostro ricambio Di amore Di riparazione Di gratitudine Per noi e per tutti La cosa importante È quando Io mi raccomando sempre Quando si compiono Queste operazioni Quando si fanno i giri Nella divina volontà Non dimentichiamo mai Le parole che Gesù dice Purtroppo La nostra volontà umana È talmente È talmente Un qualche cosa Di incredibile E di fastidioso Che è capace Anche di andare A guastare O a rovinare Pure le cose sante Perché quando Anche a certi esercizi Interiori Ci si accosta In maniera non consone In maniera un po' A volte ossessiva O eccessiva Io vorrei Spero che Quando Offro delle suggestioni Poi lo Spirito Santo Aiuti No Posso fare Qualcun piccolo esempio Insomma Se una persona Per fare queste cose Trascurasse I propri doveri Cioè Siamo una mamma Che deve cucinare E non cucina Oppure fa bruciatutto Cucina una schifezza Perché stava facendo Gli atti nella divina volontà Ma questa non è volontà Di Dio Tanto per fare un esempio Grossolano No Quindi Macroscopico Perché Oppure Tante volte Ci siamo detti No Chi vive una vita Come la maggioranza Presumo delle persone Che ascoltano questo Insomma Adesso non so se Ascolta anche qualche frato Qualche suono Qualche monaco Però Quando si vive una vita Laicale In parte Io non sono un laico Sono un sacerdote Ma sono un sacerdote Secolare Sono un padre con cura d'anime Quindi Devo Necessariamente Compiere delle Azioni esterne Devo stare dietro Le persone Non potrei Stare dalla mattina Alla sera Chiuso in camera A fare i giri Nella divina volontà Se Dio non voglia Succedere una cosa Di questo genere Dice Ma io sto facendo i giri Ma è un disordine Però Non può essere Tutto il giorno A fare questo Allora Questo Noi dobbiamo Tenerlo presente E anche se uno Tra l'altro Fosse un monaco Di clausura Come tutti sanno Anche i monaci Di clausura La vita monastica Si fonda Sul binomio Ora et labora Trasforma anche Il lavoro in preghiera Questo va bene Ma tu devi lavorare Ecco perché Insieme Alle croci Il nostro Signore Ci ha dato anche Sulla terra La legge del lavoro Proprio del lavoro Lavoro Che può essere Un lavoro intellettuale Può essere un lavoro pastorale Come il mio Un lavoro manuale Tutto quello che noi vogliamo San Paolo Scrive nelle sue lettere Chi non vuole lavorare Neppure mangi Quindi Faccio questi esempi Perché possiamo Comprendere Perché io ho imparato Dall'esperienza Che è sempre Meglio dire Su questo Una parola in più Quindi fare un esempio Non utile Piuttosto che non farlo E magari poi Rischiare Una persona In buona fede Ma Non sufficientemente Attenta Ai modi Con cui Da un'umana volontà È come la rabbia fenice Risorge In continuazione Alimentata Ecco Dai soffi Del diavolo Che la vuole Far crescere Far crescere E si insinua Questo tante volte Gesù ce l'ha detto Negli scritti Anche Nelle cose sante Non è che Se sto facendo Una cosa santa Sicuramente Sto nella divina volontà La sto facendo Nella divina volontà Non è affatto detto Perché bisogna vedere Se quella cosa santa Dio la vuole da te Se la vuole in quel momento E se la stai facendo bene A tempo Luogo Momento opportuno Quindi Il Signore ci aiuti No? Ecco Lo Spirito Santo Che dobbiamo sempre invocare Sia sempre Il nostro cuore Ad aiutarci Nel discernimento Ecco E Nell'ultima parte Gesù Proprio ci accenniamo Fa riferimento A questi atti Sospesi Tutti gli atti Fatti Nella divina volontà Dalla divina volontà Che sono infiniti Stanno quasi tutti quanti Sospesi per aria Perché? Perché non trovano Un Ambiente Un luogo Dove potersi riversare Non trovano nessuno Che li vada a raccogliere A prendere E a farli propri Ordinariamente Allora dice Gesù La prima cosa Che ho fatto Sul pianeta Terra È stato anzitutto Riprendermi tutto Rifare i miei Tutti quanti gli atti Rifare tutte Tutte quante le vite Dopo Potevo compiere L'opera della retenzione Quindi quando prima Avevo messo al sicuro Però Tutte quante le esigenze Della divina volontà Facciamo in modo Anche noi Per quanto possibile Di non lasciare Sospesi gli atti Della divina volontà Ma oltre che Riparare Per tutti quelli Che Ne sono completamente Indifferenti E verso E verso I quali si manifestano Sommamente in grado E anche Prendere i falli nostri Perché Per quello Sono stati fatti Dalla Santissima Trinità Perché vuole che Noi li prendiamo Li facciamo nostri Ne prendiamo la vita E ne godiamo Grazie. bene assente ringraziamo anche oggi il Signore per queste lezioni che ci ha donato sul valore delle croci su questa particolare croce della divina volontà formata dalle nostre volontà umane e sui suoi innumerevoli atti sospesi che devono essere presi usciamo da questa meditazione col tuo aiuto proponendoci di accogliere e di accettare con amore tutte le sofferenze e le prove che il Signore ci manda fermamente risoluti per quanto sta in noi a riconoscere a ricambiare, a riparare tutti gli atti fatti dalla divina volontà al nostro favore e anche a farli nostri a non lasciarli sospesi perché non rimangano lì senza chi li accolga, ne goda e dia al Signore la soddisfazione la gioia di vedere che qualcuno gode di quelle bellissime ed immense cose che Egli ha creato per noi e la divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria Fiat Ave Maria Fiat Ave Maria